Mi sono congratulato con Venezia per la vittoria, noi abbiamo avuto un buon approccio alla partita, penso che abbiamo giocato in modo solido, soprattutto nell'approccio offensivo e nel piano difensivo e secondo periodo. Quando nel terzo siamo entrato in campo era ipotizzabile che Venezia avesse un altro livello di aggressività e un pochino l'abbiamo superato, ma quando abbiamo ritrovato un po' la linea di galleggiamento in quel momento abbiamo commesso secondo me gli errori più gravi, perdendo un po' il modo di essere squadra, giocando con maggiore disciplina siamo diventati invece troppo, ci sono state troppo iniziative solitarie che hanno cercato di riportare la squadra in parità o in vantaggio, dimenticando quello che invece ci aveva permesso di costruire il vantaggio, cioè la pazienza con cui avevamo lavorato in attacco per mettere a frutto gli sforzi difensivi. Quindi nel finale sicuramente al di là della prestazione del quarto periodo di Dei, in generale una prestazione individuale, però in generale nel finale la Venezia è stata più solida come squadra e noi abbiamo smarrito l'equilibrio di fronte a quelle difficoltà che ci sono costate la gara, più o meno ausente. Grazie.